Cambiamo pagina, parliamo di un personaggio che è stato cappellano militare durante la ritirata di Russia, parroco, studioso, ancora esercita il suo ministero sacerdotale, Don Italo Ruffini, proprio oggi compie cento anni, festeggiato dagli amici e dalla diocesi di Torino. Caterina Carnava. Per me il momento che passa è soltanto un lampo di eternità che si apre e più mi avvicino alla fine, i cent'anni vogliono dire anche questo, più mi avvicino alla fine più mi rendo conto che dobbiamo tenere presente che il tempo di cui godiamo è soltanto una piccola apertura nell'eternità. Don Ruffino porta con sé il calice della prima messa, 77 anni fa, la stola che ha indossato durante la tragica ritirata di Russia e il ricordo di tante persone. L'incontro con una persona, anche una sola volta in vita, vuol dire che tu eri predestinato a quell'incontro e dovevi aver lasciato qualcosa di te, parlo di me come cristiano, come sacerdote e come uomo. Il giorno del suo compleanno numero 100 celebra la messa all'istituto Flora circondato dagli amici. Io so che siamo chiamati a qualcosa, c'è una pagina nostra che è stata scritta, è la pagina della nostra nascita, ecclesiasticamente parlando, del nostro battesimo. Questa è scritta, ce n'è una ancora in bianco, bianco per noi mi ha già scritto davanti a Dio, che sa già dove, come e quando ci chiamerà.